Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Passiamo alla FIPI lì dove a causa di lavori si segnalano 3 km di coda tra Cascina e Ponte della Ovest in direzione Firenze. Da segnalare sempre in FIPI lì anche code in uscita a causa del traffico intenso alla Strassigna provenendo da Firenze. Sulla statale 1 Aurelia invece a causa di un incidente tratto chiuso al km 303 in località Quercianella in entrambe le direzioni. Sulla statale 3 bis Tiberina si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con chiusura dello svincolo di Sansepolcro Sud in entrata e uscita in direzione Roma. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!